Buonasera a tutti, perché sono già passate le 7 di sera e siamo tutti pronti, c'è già un bel numero di persone che ci stanno aspettando e che deve iniziare. Volevo darvi il benvenuto nel nostro studio e nel nostro spazio kitchen per iniziare a parlare di neuroscienze e design e di come queste tematiche possono influenzarsi vicendevolmente, nel senso che sicuramente noi saremo influenzati da quello che Martina ci racconterà, Martina Vitti, e forse anche lei magari in questo punto di conto otterrà qualche stimolo per la sua ricerca. World Next, questo è il secondo evento di World Next e continuerà nei prossimi mesi cercando di esplorare quelli che sono un po' i confini del design e quello che diciamo nella nostra professione può influenzarci nel futuro, ci sta influenzando adesso e in questo momento di trasformazione nella nostra professione ci aiuterà un po' a prendere le distanze o le vicinanze rispetto a tematiche che ci aiuteranno a fare dei progetti migliori per il futuro. Lascio a Luca De Biase la parola e magari introduce Martina e il suo lavoro. Grazie Eddie, benvenuti, Martina sedite, ci sediamo. Come diceva Eddie stiamo procedendo in una serie di incontri che ci aiutano a incontrare stimoli che ci possano aprire una visione su quello che stiamo costruendo, che sono le conseguenze di quello che facciamo e impariamo e quindi in qualche modo immaginare il futuro nel quale si inseriscono poi le nostre opere, i nostri pensieri, e le nostre azioni, anzi le vostre perché io mi limito a chiacchierarne, facendo giornalisti. Martina Ardizi è ricercatrice all'Istituto di Neuroscienze di Parma, quello che è diventato super famosissimo e anche piuttosto grande in Europa per i lavori di Rizzolatti e Gallese che avevano trovato questa teoria, e anche piuttosto provata perlomeno, secondo quello che risulta, dei neuroni specchio, cioè questa serie di neuroni che hanno caratteristiche straordinariamente importanti per la comprensione dei gesti e delle relazioni con gli altri, insomma poi ci spiegherà meglio, sono stati raccontati come il modo con il quale i cervelli si connettono in qualche modo o capiscono come si connettono. In realtà comunque gli argomenti che vengono studiati a Parma sono quelli più importanti di tutte le neuroscienze in questi anni che sono state le neuroscienze accelerate straordinariamente dall'impatto delle nuove macchine digitali che consentono di vedere cose che prima non era pensabile vedere e fanno parte di questa nuova epoca della comprensione di quello che succede al cervello. Io sono abbastanza vecchio da avere vissuto un'epoca nella quale c'era questo gioco di domandarsi negli anni primi anni 70 ti capitava spesso per motivi vari in tutti i paesi occidentali per una versione o per un'altra ti arrivava questa domanda ma se io mangio il mio corpo quale organo rimarrà per ultimo? Non so se voi l'avete sentita mai questa domanda. Io me la ricordo perché era insolubile e tuttora dico già ma com'è finita quella domanda? Non lo so però so che si applica molto bene a questa fase della ricerca se io penso il mio corpo quale organo penserò per ultimo? Effettivamente il cervello è rimasto per ultimo. Ne sappiamo meno delle altri organi del nostro corpo stiamo imparando adesso come in un mondo totalmente pionieristico dal punto di vista scientifico a definire di che cosa stiamo parlando e negli ultimi dieci anni è cambiato completamente l'idea che noi abbiamo del cervello. È bello sentirlo raccontare da Martina, adesso partirà la sua spiegazione, cosa stanno facendo le neuroscienze adesso, perché lo stanno facendo e che problemi stanno risolvendo, poi abbiamo uno spazio di domande certamente per connettere il più possibile quello che impareremo ascoltandola con il lavoro che stiamo facendo oggi. Martina. Grazie, grazie mille innanzitutto davvero per l'invito, anche mentre parlavamo prima di iniziare insomma questa chiacchierata ci si rende conto di come probabilmente siamo come due vicini di casa che si parlano poco ma non sanno di avere molto in comune, per cui in realtà riflettendo sui diversi temi ci sono molte aree di sovrapposizione, oggi cercherò di raccontarvene alcune con il linguaggio che è proprio ovviamente delle neuroscienze, ma che spero di rendere chiaro e quindi di poter dare poi il fianco a una bella discussione che appunto probabilmente addieterà più mai che voi alla fine, perché io poi vi porto dove voglio io, visto che parlo io per prima e quindi gioco in anticipo. Luca ha ragione, quindi se noi pensiamo e studiamo il nostro corpo qual è l'organo che rimane per ultimo? Probabilmente davvero è rimasto per ultimo il cervello, le neuroscienze sono di fatto una disciplina come disciplina di studio molto recente, sebbene poi l'interesse in realtà sia molto antico. Se dovessi provare a definirle giusto per avere un'etichetta sotto la quale diciamo ci troviamo tutti d'accordo, le neuroscienze studiano il sistema nervoso centrale, periferico e le sue proprietà emergenti. Cosa si intende per proprietà emergenti? Cioè quelle proprietà, quelle funzioni che riteniamo emergere dall'attività del sistema nervoso centrale. Empatia, linguaggio, attenzione, percezione, capite quanto è ampio e si dice le neuroscienze perché di fatto non vi è un'unica disciplina, non esiste la neuroscienza, non esiste. Ci sono tantissime discipline che attraverso diversi metodi di indagine e le loro tecniche intercettano questo problema. Quindi andiamo dalla fisica e dalla chimica dove si studiano le pompe sodio potassio dei neuroni e quindi come queste influenzano le proprietà emergenti del sistema nervoso centrale fino all'archeologia cognitiva che io per esempio ho scoperto da poco che mi ha affascinato moltissimo. Quindi lo studio dei reperti, rimbombo, lo studio dei reperti archeologici e come questi possono informarci rispetto a quelle che erano le proprietà emergenti di quegli individui con quei crani, con quelle capacità di produrre artefatti eccetera. Ovviamente la capacità esplicativa di queste diverse discipline è diverso, ciò che può dire la genetica è molto diverso da ciò che può dire l'archeologia cognitiva, però tutte concorrono in un qualche modo a rispondere alla stessa domanda. Come è possibile che da un insieme di neuroni e da un insieme di nervi diciamo emergano queste proprietà, queste funzioni cognitive? Come siamo in grado, quali sono le basi neurobiologiche di questo? Di fatto però appunto l'interesse è molto antico e questa cosa la cito spesso perché è molto interessante. Forse il primissimo trattato di neuroscienze potrebbe risalire al 1500 avanti Cristo, rinvenuto a Tebe, è un papiro che viene chiamato di Edwin Smith dal nome dell'archeologo che ovviamente l'ha scoperto, sebbene tengo a precisare che l'ha reso poi pubblico la figlia, quindi Edwin se l'era come dire tenuto in saccoccia e fu la figlia soltanto che lo rese pubblico alla morte del padre, ma comunque lo chiamiamo di Edwin, magari è figlia insomma a questo punto, dove sostanzialmente c'era la descrizione di 48 casi di persone adulte che in seguito a determinati traumi cranici manifestavano una specifica patologia. C'è di fatto il primo caso di afasia che conosciamo, cioè dell'incapacità di parlare o dell'incapacità di comprendere il linguaggio dopo che il linguaggio è stato acquisito come funzione, quindi in età adulta. Ed è proprio un trattato di neuroscienze, quasi medico, si riporta la lesione e si riporta il sintomo. Quindi capite come c'era l'interesse di capire quale parte del cervello in questo caso fosse collegata in modo causativo con una determinata proprietà, la capacità di parlare, di muoversi, di per esempio comportarsi adeguatamente e quindi abbiamo tutta una serie di casi, questi 48 casi studiati. Nonostante questo interesse è molto remoto. La disciplina però si è costituita in tempi molto recenti. Diciamo che facciamo nascere le neuroscienze circa negli anni 70, quando è stata fondata la Society for Neuroscience. Prima c'era appunto questa cozzaglia di diverse discipline molto autonome l'una dall'altra che camminavano sullo stesso percorso ma di fatto non si parlavano. Il fatto che sia così recente ci lascia un problema epistemologico molto arduo da, come dire, da dipanare. Perché se vogliamo tornare a quello che dicevamo prima, chiunque compartecipi alle neuroscienze è di fatto una mente che studia la mente. Passiamo il concetto di mente sul quale potremmo dialogare per tipo i prossimi tre secoli ovviamente, però in senso molto ampio gli scienziati che si interrogano su quali siano le basi neurobiologiche o comunque le proprietà del sistema nervoso centrale che permettono l'emergere di determinate funzioni stanno studiando loro stessi da una prospettiva molto vicina. E questo è un problema che insieme ai filosofi della scienza si sta cercando di risolvere perché capite che incista le neuroscienze di un problema epistemologico molto grande che di fatto produce due aspetti. Da un lato tutto quello che si scopre ha un impatto devastante perché tutto quello che sappiamo di nuovo cambia il nostro modo di vedere noi stessi e quindi cambia il modo in cui ci approcciamo a queste tematiche e ne vediamo due insieme dei più grandi big bang diciamo delle neuroscienze. Quindi da un lato ci ci offre una disciplina che sebbene può essere considerata una scienza dura ha una come dire una sua un suo statuto scientifico oggettivo in realtà è proprio incardinata e radicata nella nostra vita quotidiana perché quello che io so di come io funziono influenza moltissimo la visione proprio culturale e sociale di me nel mondo e nelle società. Dall'altra parte ovviamente limita lo studio perché oggetto e soggetto sono sostanzialmente coincidenti e quindi io non posso vedere ciò che non sono pronto a vedere, non posso sapere ciò che non sono pronto a sapere. Quindi capite in quale dilemma di fatto siamo come dire incastrati. Questo dilemma esiste in tutte le scienze in tutte le scienze oggetto e soggetto anche in matematica analitica c'è questo problema. Certo è ancora più eclatante nel momento in cui l'oggetto è proprio quasi il nostro stesso corpo e una parte così fondamentale. Quindi se teniamo a mente questo, partendo da questo, due sono state gli enormi cambiamenti che effettivamente hanno influenzato la nostra visione delle neuroscienze e quindi a cascata poi di moltissimi altri aspetti. e ve lo riporto qua. Non troppo tempo fa perché questo l'ho studiato anche all'università e quindi è evidente che non è troppo tempo fa, no? Pochissimi anni fa. Noi di fatto che cosa studiavamo? Noi ci approcciavamo allo studio del cervello secondo il modello del cognitivismo classico. Il modello del cognitivismo classico si può riassumere in questo modello del cervello sandwich che tutti più o meno probabilmente abbiamo incrociato da qualche parte. Il cervello è un modulo, diciamo tripartito, dove c'è un cervello che percepisce, un cervello che pensa e un cervello che fa. Perché sandwich? Perché ovviamente la parte di calorie, la carne, cioè il succo, era il cervello che pensava, piuttosto che il cervello che percepisce o il cervello che fa. Che erano come dire l'input e l'output, ma meri percettori o meri esecutori. Questo modello, visto che menti che studiano le menti lo applicano alla ricerca scientifica, aveva portato un approccio che noi chiamiamo localizzazionista. Cioè si andava a cercare l'area per parlare, l'area per quest'altra funzione. Cioè si cercava di stare dentro questi moduli. Perché logicamente ci aspettavamo una modularità, oltre che una sequenzialità dei processi, piuttosto rigida. Ora, con l'avvento di nuove tecnologie, e non solo, però diciamo soprattutto con questo, si è iniziato a vedere come questo modello effettivamente stridesse, e stridesse non poco. Quella che vi mostro qui è un'immagine, si chiama di trattografia. La prima che vedete sopra la testa di Luca, la tua proiezione, è una trattografia diciamo anatomica. Cioè sono le fibre effettivamente presenti, le connessioni effettivamente presenti nel nostro cervello. Se lo guardate ovviamente si identificano i due emisferi, e il corpo calloso centrale, che è questa specie di autostrada, che permette le comunicazioni tra i due emisferi. Le altre due sono forse più interessanti, perché sono mappe di connettività diciamo funzionale. Cioè a favore di una base anatomica che connette vari centri, quali connessioni sono attive e quali non lo sono. Ok? In un modello come quello del modello sandwich, quindi come il cervello che abbiamo visto prima, una tale diffusione, distribuzione, proprio anche topografica, delle connessioni non è sostenibile. Peraltro questo è il cervello di una persona a riposo, a occhi chiusi. Quindi dove di fatto non sta facendo nulla, se non quello che viene chiamato il mind wandering probabilmente, cioè sta pensando ai cosiddetti fatti suoi, e però vediamo una mappa di connettività che comprende aree diversissime tra loro. aree non primarie, quindi non sensoriali primarie, ma subito le secondarie, regioni frontali, regioni parietali, moltissime strutture sottocorticali. Quindi si è iniziato a ipotizzare che forse il modello tripartito, cioè andare necessariamente a cercare una parte che percepisce, una parte che pensa, e una parte che fa, in modo esclusivo, con questa linearità, fosse quantomeno riduttivo se non proprio sbagliato, erroneo del tutto. Capite però questo come effettivamente cambia il modo di approcciarsi. Cioè non è un cambiamento da poco, non è soltanto ops, ci siamo sbagliati, forse è tutto più connesso. Bisogna pensare a dei paradigmi nuovi per studiare in modo diverso quello che stavamo vedendo prima, bisogna avere le tecniche per leggerlo, ovviamente, e bisogna essere pronti, come dire, a cambiare il paradigma e a rivederlo secondo una nuova traiettoria. E questo ha impattato davvero a tantissimi livelli il nostro sapere di queste funzioni emergenti. Per esempio la percezione, la percezione visiva. È forse stata la funzione più studiata all'interno delle neuroscienze. sappiamo esattamente cosa succede dal fotone, retina, tutte le cellule, nervo ottico, aree di elaborazione primaria e secondaria e sappiamo che cosa è la visione. Nel modello di prima ci bastava questa topografia. In realtà, attraverso il cambio di paradigma ci siamo resi conto che la percezione non è visiva, non è racchiudibile soltanto in questo contesto. Per esempio, diciamo, a parità di stimolo sensoriale esterno, a parità di competenze sensoriali personali, quindi poniamo di avere tutti la stessa acuità visiva, la stessa posizione nello spazio, ok, quindi di avere, come dire, la stessa base di ricezione. Il percetto, quindi ciò che stiamo effettivamente vedendo in modo consapevole, sarà probabilmente differente, perché all'interno di questo processo vi entrano in gioco anche regioni frontali, molto elaborate, cognitive, le nostre memorie, eccetera, che vanno a influenzare, noi diciamo a livello top down, ma per dargli una direzionalità, anche questo è un residuo del modello tripartito, perché se invece consideriamo tutto molto integrato, da sopra a sotto, da l'est a sinistra, non ci dovrebbe più interessare. Però, per capirci, che vanno a influenzare il processo sensoriale. Quindi, in un qualche modo, la percezione, sapevamo già che non era esattamente la copia di quello che può esistere nella realtà, sapevamo moltissime cose, ma veniva sempre vista come una sorta di autostrada che va dall'oggetto esterno fino all'interno, perché quella parte di cervello lì deve fare quello, poi dopo ci va a integrarsi la parte cognitiva. Ma molto di più, quando noi osserviamo qualcosa, non è solo la corteccia visiva a essere implicata, abbiamo anche una grossa componente, per esempio, della corteccia motoria. e questo è molto interessante. Se io osservo un oggetto che potrei prendere con la mia mano, io sono mancina, quindi con la mia mano sinistra, cioè la mia mano dominante, non solo si attivano tutte le aree visive per codificare le proprietà visive dell'oggetto, quindi quel bicchiere, la sua lucentezza, la sua distanza dal mio corpo, come viene formato, eccetera, ma anche le aree motorie che controllano i miei gesti di mano e che mi dicono questo oggetto, date la sua forma, lo potresti prendere in questo, questo o questo modo. Sto semplificando molto, però abbiamo solo tre quarti d'ora. Cioè, se io vedo questo oggetto con questa forma, è probabile che si attivi, come dire, tutto il circuito motorio che io userei per afferrarlo a mano piena, perché è la presa più compatibile con quell'oggetto. Se invece osservassi un oggetto più piccolo, probabilmente attiverebbe tutte le regioni, tutti i circuiti motori che mi aiutano a prenderlo con una presa che noi chiamiamo abinza, cioè di precisione, di opposizione, pollice, indice. Cosa voglio dire? Che le proprietà dell'ambiente, anche che noi fruiamo attraverso la visione, non sono limitate esclusivamente alle proprietà visive. Gli oggetti comunicano al mio sistema motorio come posso interagire con essi, qual è la modalità più conveniente se non altro. Poi io posso ovviamente decidere di agire l'atto motorio, quindi di agire e prendere il bicchiere e bere oppure starmene ferma. Però ho un'informazione in più e tra l'altro è interessante perché questa informazione in più non c'è data per tutto, c'è data per tutti quegli oggetti a cui io posso effettivamente arrivare, che stanno nello spazio che noi chiamiamo spazio per il personale, cioè quello che io raggiungo estendendo i miei effettori. Questo perché non ha senso che la mia corteccia motoria si metta a scaricare per un oggetto molto molto distante col quale io non posso avere nulla di agito concretamente quindi è un'informazione che sarebbe molto ridondante che sovraccaricherebbe il mio processo percettivo però gli oggetti che invece ho a portata di mano come si dice quelli sì quelli è importante che io sappia in anticipo quasi anche se non lo voglio agire non lo voglio fare capite che a prescindere dalla mia consapevolezza non è che noi siamo consapevoli delle proprietà visive di questo oggetto e scegliamo di percepirle piuttosto che no noi percepiamo attraverso i nostri sensi la nostra corteccia motoria è in essi implicata quindi capite come la visione in realtà è multimodale non abbiamo la visione to pure e bassa attraverso il canale visivo ci vengono offerte tantissime informazioni tra cui anche per esempio le proprietà motorie di un oggetto che però vanno a solletticare la nostra corteccia motoria giustamente che sarebbe poi quella coinvolta nell'azione stessa ancora di più se noi leggiamo delle parole d'azione per esempio calciare stritolare baciare mentre stiamo leggendo insieme alle regioni che ci servono per leggere ovviamente si attivano le cortecce motorie che ci servono per fare quella stessa azione così così se leggiamo quell'uomo ha un viscido la parola viscido attiva la corteccia sensoriale secondaria quella che ci serve all'esperienza del viscido sensoriale cioè aree che noi avremmo messo nel modello sandwich nella percezione basta in realtà vengono reclutate anche quando io non sto percependo assolutamente nulla cioè non sto percependo realmente uno stimolo viscido ma lo stimolo viscido mi è dato da un'interazione simbolica con la parola probabilmente avrei colto il significato della parola viscido lo stesso non sto dicendo che siano necessarie che se uno ha un'ablazione della sensoriale secondaria non capisce più quell'uomo è viscido metaforicamente cosa significhi non sto dicendo questo ma compartecipano alla comprensione così ci sono moltissimi studi sulla poetica cioè sull'uso poetico delle immagini che illicitano particolari risposte perché fanno leva su queste attivazioni che non sono delle cortecce relative all'apprendimento della lettura ma che sono di fatto quelle che noi utilizziamo per esperire esperienze particolari quindi capite che questo tutto questo non è che ci stia molto dentro al modello di fatto del cervello tripartito non riusciamo ad utilizzarlo e si sta appunto indagando come questo possa essere applicato a tantissimi contesti anche l'identità l'esperienza di sé la consapevolezza di sé di fatto per il modello i primi studi cercavano come dire la regione della consapevolezza quella per la quale se quella è attiva di fatto noi abbiamo un'esperienza cosciente di noi stessi in realtà si è visto che è un network di aree che compartecipa a questo che peraltro è simile a quello che vedete in questo in questa slide che coinvolge regioni differenti e che è attivo proprio quando riflettiamo su noi stessi cioè quando leggiamo qualcosa che ha a che fare con noi stessi tipo aggettivi che noi attribuiamo a noi stessi la nostra città natale piuttosto che un tratto caratteriale quando vediamo il nostro volto quando vediamo il nostro movimento biologico quindi se noi riprendiamo noi stessi che ci muoviamo e lo rendiamo a pallini sapete no? quelle specie di marionette queste regioni rispondono quando osserviamo il nostro movimento e non quando osserviamo il movimento di qualcun altro anche se non lo riconosciamo esplicitamente come nostro come se ci fosse un cablaggio di ciò che effettivamente è proprio da ciò che effettivamente non lo è a prescindere dalla consapevolezza si è visto che queste regioni per esempio si attivano anche per le identità online quindi per il nostro nickname piuttosto che per degli avatar che abbiamo costruito sulla nostra identità come se non fosse necessario avere ovviamente la nostra reale persona o il nostro movimento biologico la mia faccia ma che fosse trasferibile anche ad un contesto che è più distante ma sempre identitario nel senso che vi è un rapporto uno a uno tra l'identità online e me stessa ancora di più approfondendo questo tema è l'aspetto interessante di ciò che nuclearmente ci rende noi e in questo pare essere fondamentale la capacità di interazione di integrazione di stimoli multisensoriali sul nostro corpo possediamo una finestra temporale all'interno della quale se due stimoli cadono all'interno della stessa finestra noi li concepiamo come unici se cadono sul nostro corpo come appunto avviene a quel punto noi stiamo vivendo un'esperienza di identità questa finestra è alterata per esempio in moltissimi disturbi psichiatrici e dipende dalla frequenza di scarica dei neuroni cioè capite come se ribaltando questo meccanismo ribaltando la visione che abbiamo di mente ci permettiamo di approfondire argomenti andando anche a livelli molto di base che però possono essere esplicative esplicativi scusate di alcune proprietà emergenti non solo sane ma anche patologiche e questo era un po' l'affaccio sul primo big bang il secondo che forse è ancora più prorompente di questo riguarda la plasticità qui vi ho riportato sempre perché si sa che in accademia le slide sono sempre molto semplici sì cosa pensavamo appunto 12 13 anni fa che certo l'uomo è plastico quindi certo il sistema nervoso non è che ci è adatto in un modo e con questo moriamo assolutamente no però si limitava la capacità plastica del sistema nervoso centrale all'età infantile più o meno e in età adulta alle conseguenze di gravi lesioni quindi è ovvio che se io ho un ictus il mio sistema nervoso centrale si adattava e quindi plasticamente si riadattava ma su un evento patologico in realtà e queste sono valsi gli ultimi Nobel si è scoperto che fenomeni di plasticità sono possibili lungo tutto l'arco di vita non solo plasticità funzionale quella che diciamo reindirizza le connessioni sinaptiche ma può essere anche solo temporanea ma anche proprio di plasticità strutturale e quindi di un cambiamento strutturale nel cervello cioè nascita o morte di nuove cellule tanto che si chiamano fenomeni di neurogenesi che sono stati evidenziati sia in alcuni mammiferi sia nella nostra specie anche in età adulta in particolare regioni quindi nascono nuovi neuroni lungo tutto l'arco di vita questo adesso sembra forse l'acqua calda però in realtà ha cambiato drammaticamente il modo di vedere le cose e soprattutto il modo di vedere la mente perché la fonte di maggiore plasticità è l'ambiente quindi cosa succede? Che noi viviamo in un ambiente artefatto e questo è piuttosto evidente cioè non viviamo più in un ambiente naturale noi agiamo in un ambiente che è stato creato dalle nostre funzioni cognitive questi oggetti noi le possediamo perché a livello biologico siamo in grado di pensarli progettarli e crearli questo vale adesso come duemila anni fa ovviamente questo ambiente artefatto da noi e dalle nostre possibilità biologiche influenza il nostro funzionamento nervoso sia selezionando gli individui ad essi più adeguati quindi dal punto di vista filogenetico quindi noi non siamo uguali ai nostri antenati se fossimo vissuti in due ambienti diversi probabilmente avremmo avuto traiettorie evolutive differenti e adattando il nostro sistema nervoso centrale adesso in più l'epigenetica dimostra che questi cambiamenti alcuni di questi sono trasmissibili a livello genetico alla prole per cui la prole non deve rifare tutto il processo di adattamento eredita per via materna alcuni adattamenti che sono molto funzionali noi di fatto siamo mammiferi quindi la nostra prole probabilmente vivrà nel nostro stesso ambiente perché dipende dalle nostre cure parentali all'inizio quindi è utile che sappia già comportarsi in un certo modo ok senza doverlo esperire a sua volta e adattarsi a rischio magari della sopravvivenza della prole stessa quindi cosa succede che noi abbiamo un processo di nuovo ricorsivo tra biologia natura cultura ambiente ambiente artefatto ambiente naturale quindi la mente quello che noi pensavamo fosse la proprietà emergente del sistema nervoso centrale in realtà è un un grande buco nero che non sappiamo definire all'interno del quale ci cadono però tantissime cose la biologia la cultura la società l'aspetto genetico capite che non è più possibile continuare a parlare di binomio natura cultura la cultura l'ambiente è cablato a livello biologico e la biologia influenza l'ambiente quindi siamo in un processo ricorsivo questo ovviamente ha sollecitato numerose ricerche rispetto a cosa ci ha portato fin qui quindi perché per esempio alcune scoperte tecnologiche la ruota la scrittura queste scoperte che certo le abbiamo fatte noi grazie alle nostre possibilità cognitive come poi hanno influenzato il nostro sviluppo genetico e neurobiologico per esempio alcuni studi sul linguaggio si interessano molto alle caratteristiche degli individui che sono stati selezionati dopo l'avvento del linguaggio perché sono individui generalmente più calmi che hanno la possibilità di apprendere il linguaggio quindi che vivono in un ambiente più sano più salubre più sicuro rispetto ad altri che invece probabilmente hanno bisogno di rispondere in modo molto più rapido e eventualmente il linguaggio è qualcosa che rimane più limitato e quindi come la nostra traiettoria di sviluppo a livello filogenetico a livello neurobiologico è stata influenzata da questa competenza oggi si sta anche andando a cercare di capire cosa accadrà da qui in avanti perché le tecnologie in dubbio le tecnologie di cui disponiamo oggi non necessitano più diciamo di un lungo tempo di gestazione e quindi abbiamo dei cambiamenti abbastanza rapidi sicuramente più rapidi di un tempo per vari fattori la scolarizzazione è uno di questi il fatto che possiamo parlare a lunghe distanze questi sono tutti acceleratori dell'innovazione quindi possiamo ottenere oggetti e artefatti e mutazioni ambientali in modo molto più rapido rispetto anche solo a 50 anni fa come ad esempio l'immersione nel mondo digitale potrebbe virare il nostro processo di evoluzione a livello neurobiologico non ci sono ovviamente ricerche su questo puntuali ci sono come dire la raccolta di diverse evidenze un esempio è sicuramente la nostra necessaria adattamento a livello visivo perché l'informazione e la comunicazione da un'informazione verbale dove erano necessarie determinate competenze mnestiche che sono state selezionate di fatto ci stiamo spostando su supporti e approcci più visivi digitali le ricerche che cosa più o meno dimostrano per fare di una lunga traiettoria di fatto qualcosa di breve sintetico che si può ricordare che la plasticità è dispendiosa non è una cosa a cui il cervello cede affascinato a prescindere perché è dispendiosa a livello metabolico significa creare una struttura nuova adattarla verificare che effettivamente sia di maggiore beneficio rispetto alla precedente e perseguire questa strada stiamo personificando il cervello ovviamente ma solo per onore di chiarezza quindi in realtà il grande principio al quale risponde il nostro sistema nervoso centrale è l'economicità cioè se c'è una soluzione più facile dal punto di vista proprio metabolico la persegue molto più rapidamente rispetto ad una più complessa quindi in tutto questo gioco che cosa si osserva che mediamente se il cervello dispone di un meccanismo che già utilizza e che potrebbe essere utilizzato in modo similare anche per altro di fatto lo conia questo è successo per moltissime nostre competenze l'area che noi una delle aree principali che noi utilizziamo per parlare l'area di Broca famosissima di fatto nella scimmia serve per controllare i movimenti di bocca e di mano quindi capite che abbiamo astratto un motivo per cui gesticoliamo ovviamente anche quindi abbiamo astratto una competenza cioè i movimenti di bocca i movimenti di mano che hanno anche una componente simbolica l'abbiamo astratta fino a utilizzarla per il linguaggio non è che ci siamo inventati una nuova area del linguaggio sarebbe stata una spesa evolutiva incredibile che non potevamo proprio come organismo biologico sostenere molto più facile molto più furbo convertire qualcosa che abbiamo già questo perché lo dico perché quello che viene fuori dalle ricerche è che la traiettoria che stiamo prendendo è questa cioè di riutilizzo di qualcosa che abbiamo già che magari usiamo nel mondo analogico e ce lo spostiamo nel digitale per questo per esempio muovere oggetti digitali anche con gli occhi non importa con quale effettore lo stiamo facendo è sostanzialmente sovrapponibile a muoverli nell'ambiente reale ci mettiamo allo stesso tempo a immaginare per esempio di camminare da qui fino a là perché sto reclutando proprio la mia corteccia motoria che mi farebbe fare quella cosa lì quindi io la posso fare solo in quel modo lì allo stesso modo ci sono fenomeni di compatibilità rispetto alle device che vengono utilizzate un aspetto che è stato piuttosto studiato è per esempio il ritardo che c'è tra quando io premo e quando succede qualcosa questo ritardo ce ne siamo accorti quando non funziona è evidente che non sta funzionando in realtà praticamente è una finestra di 300 millisecondi all'interno della quale o il nostro neurone riesce a sincronizzare le due cose cioè la mia azione e l'output che ne consegue oppure non ci riesce se non ci riesce non riesce ad andare avanti nell'elaborazione dell'azione che ha fatto e quindi rimane in un qualche modo ad uno stadio nella quale non c'è una reale interazione con l'interfaccia perché sono limitata da questa competenza altri aspetti per esempio vi ricordate che parlavo dello spazio peripersonale quindi questo spazio d'azione è stato studiato anche in ambito digitale questo è interessante perché di fatto questo spazio raggiungibile è plastico anch'esso cioè se io utilizzo un tool uno strumento per afferrare un oggetto lontano o se indosso una protesi per esempio il mio spazio d'azione si estende perché logicamente avete presente tipo i croupier che usano la racchetta per avvicinare le fisce lontane l'uso l'esercizio di questo tool ovviamente mi permette il mio cervello di contemplare anche quello spazio molto più distante come effettivamente afferrabile e raggiungibile perché io possiedo il tool questo si è visto presente anche in ambito digitale non solo quando io uso il mouse per esempio che ha un effetto sullo schermo in realtà il mio spazio per il personale comprende lo schermo ma anche quando io interagisco diciamo in modo simbolico a livello digitale quindi faccio azioni butto nel gestino muovo faccio che non sono nel mio spazio effettivo d'azione il mio spazio per il personale comprende il luogo digitale nel quale queste sono avvenute cioè in sostanza in un qualche modo siamo sicuramente degli animali complessi e entusiasmanti però poi in realtà siamo anche molto semplici quello che io comprendo dello spazio d'azione che sia digitale o reale di fatto utilizzo gli stessi meccanismi e ad essi mi adatto questo non significa che sia tutto identico perché ovvio che l'esperienza che abbiamo del digitale o l'esperienza che abbiamo del reale sono due esperienze differenti e questo vale per moltissime cose ma la base di partenza è la conversione di processi che di fatto utilizzo in altro ambito per questo ho iniziato e così sto concludendo perché abbiamo finito il tema ho concluso cioè ho iniziato dicendo siamo come quei vicini che si parlano poco e che però hanno magari molto in comune perché in realtà a questo punto sapere qualcosa del cervello anche di come il cervello funziona appunto nel mondo reale è molto informativo su quello che potrebbe essere in uno scenario differente perché non dobbiamo immaginarci di essere completamente diversi non sarebbe possibile non è proprio possibile a livello biologico possiamo immaginare un adattamento che origina da dei substrati che stiamo già utilizzando quindi sapere come funzioniamo effettivamente può illuminare nella programmazione pianificazione e progettazione di strumenti che non sono effettivamente presenti oggi e ora qui ma che noi vorremmo utilizzare grazie 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 grazie